Sentimento o vili interesse? Non riuscire a dire di no alla dolce mogliettina o saper calcolare bieche questioni di interessi oltre a emisfero? Ci siamo posti queste domande quando ci siamo imbattuti nella storia del premier laburista dell'Australia del Sud, Mike Rahn, e della sua avvenente metà, Sasha Carruozzo, di origini pugliesi. Ebbene, il primo ministro della terra dei canguri è accusato dall'opposizione di sprecare denaro pubblico in progetti legati alla terra di origine della consorte, la Puglia appunto. Un esempio, la nomina di un inviato speciale del governo e l'invio di una delegazione a Bari per la fiera dell'Evante a cui non partecipavano aziende australiane. In Parlamento il portavoce dell'opposizione per l'industria, Martin Hamilton Smith, ha chiesto che Rahn giustifichi le spese e il coinvolgimento governativo. Altri progetti molto più importanti sono stati cestinati, lamentano gli oppositori, ma questo è stato preservato nonostante un bilancio statale con duri tagli di spesa e di posti di lavoro nel settore pubblico. E Mr. Rahn, che dice, respinge sdegnosamente le accuse, nessun commento invece da parte di Lady Puglia, eletta pugliese australiana dell'anno.